vediamo la linea per esempio basic in graffene graffene è un materiale che stiamo ora usando nei denti prossimi diciamo dal primo marzo ormai l'abbiamo adottato sono già due anni che lo stiamo usando non lo sapevate nei vostri provvisori lo stavamo usando ok tutto quello che io testo lo testo sempre sui provvisori abbiamo fatto già più di mille pazienti col graffene statistiche iper incoraggianti è un materiale del futuro rinnovabile viene fatto in dischi sicuro è una nuova generazione di materiale rinforzato con graffene che dà delle certe proprietà che potenziano gli attuali materiali è presente in dischi quindi si può mettere nel robot e io posso anche andarlo quindi a fresare c'ho la forma 3d dei denti metto il disco e formo i denti poi gli metto sempre la barra non dimenticate sempre le barre che uniscono agli impianti queste ci sono sempre le barre sia su premium standard basic graffene questi sono concetti inter arcate tutte le arcate hanno questi concetti e poi sopra posso glasarlo gli posso dare le forme che voglia i denti prendendo delle libreria e sono dei denti che sono belli perché come dal resto anche tutti gli altri perché sono pianificati da delle forme reali di denti non sono fatti